riccardo gismondi e camilla mangia pelo di uomini e donne si sono lasciati la scorsa estate la notizia ha lasciato i fan della coppia con l'amaro in bocca in quanto la loro sembrava essere una di quelle storie nate nel programma di maria de filippi più forte entrambi hanno sempre preferito evitare di rivelare i dettagli della rottura lasciando molti dubbi nella mente del pubblico che li segue sembra che dietro ci sia stato un tradimento da parte dell'ex tronista che ora avrebbe ritrovato l'amore a lanciare l'indiscrezione a medeo venza il quale fa notare su instagram che riccardo avrebbe una nuova storia d'amore con una certa valentina ecco le storie di entrambi presso lo stesso posto ma già persone vicine mi avevano detto giorni fa che i due si vedono da un po si legge non solo venza aggiunge un altro particolare su questa nuova presunta love story di gismondi i ben informati dicono che riccardo avrebbe tradito camilla proprio con questa ragazza secondo questo gossip dunque pare proprio che la relazione tra riccardo e camilla sia scoppiata a causa di questo tradimento di lui la ragazza in questione non è un volto noto nel mondo dello spettacolo conta su instagram con il suo profilo la pigivale circa 5000 follower una bellissima ragazza bionda che avrebbe conquistato il cuore di gismondi non si sa se effettivamente ci sia un tradimento dietro la rottura di questo coppia di ued in questi mesi i fan hanno comunque percepito in assenza di dettagli concreti che la mangia pelo è rimasta fortemente delusa dal comportamento dell'ex tronista camilla si è poi ritrovata con un altro volto del programma di maria de filippi ovvero chiara rabbi quest'ultima è finita al centro del gossip per via della fine della sua storia d'amore con davide donadei attualmente concorrente del grande fratello vips iscriviti al nostro canale 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 è 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